Ben tornati lunedì 28 dicembre 2020, questa è la rassegna stampa di FanoTV Occhio ai giornali. Buongiorno a tutti cari telespettatori, come state? Tutto bene? Allora siamo qua pronti per ricominciare un'altra settimana, terminare l'anno e insomma abbiamo un sacco di cose anche se poi siamo un po' limitati come vedremo ma ci sono tante notizie anche oggi che abbiamo selezionato per voi da commentare, da vedere insieme in questi 20-25 minuti che trascorreremo insieme. Allora iniziamo dal santo del giorno con il santo che oggi la chiesa ricorda, sono i santi anzi innocenti e poi alle 7.44 è l'alba, alle 16.35 invece il tramonto. Andiamo adesso a vedere il tempo. So che molti di voi vorrebbero questa colorazione viola magari un po' più spostata verso le marche ma purtroppo, purtroppo per fortuna insomma, poi dipende dal punto di vista. La neve si concentrerà e si sta concentrando anzi in queste ore al nord soprattutto, addirittura qui il trebimeteo.com si spinge a delineare, decifrare e inserire anche le accumulate al suolo della coltre bianca. Insomma, delle belle navicate che stanno interessando gran parte del nord, mentre da noi tutto, come vedete nella grafica della protezione civile delle marche con il suo consueto bollettino quotidiano, si concentrerà soprattutto sulla nostra catena penninica. E quindi dalla tarda mattinata, intorno a 10-11 di questa mattina, avremo precipitazioni e anche nelle prime ore pomeridiane, soprattutto diffuse nelle zone interne, anche a carattere di rovescio. Il limite delle nevicate è intorno ai 1000-1200 metri. Per quanto riguarda la giornata di martedì, 29, ancora precipitazioni a ridosso dei rilievi, anche a carattere di rovescio localmente. Il limite delle nevicate sale un po', anche perché le temperature sono in aumento, intorno ai 1200 metri. Poi ancora condizioni di variabilità nella parte centrale della giornata. Allora, oggi innanzitutto diciamo siamo tornati in zona arancione, quindi vedremo tra poco che cosa significa, ma ormai abbiamo iniziato, abbiamo imparato a muoverci, a districarci un po' all'interno anche di questi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, questi famosi DPCM. Quindi innanzitutto la notizia è che da oggi fino al 30, mezzanotte del 30, siamo in zona arancione. Poi l'altra notizia invece è quella che riguarda il giorno dei vaccini, il Vax Day che c'è stato ieri simbolicamente. Ieri tante foto, i social, internet, è stato inondato di fotografie, fotografie di gente con la siringa infilzata nella spalla. E dichiarazioni entusiaste di gente che ha detto, ecco, vediamo la luce in fondo al tunnel, di tutto di più, si è letto di tutto di più e lo vedremo tra poco nella nostra rassegna stampa. Intanto cominciamo appunto a vedere la pagina del Carlino di Pesero con due notizie. La prima è la fotonotizia appunto che riguarda la prima donna vaccinata, la prima sanitaria vaccinata, che è Margherita Lambertini, il volto della battaglia del Covid, lei dice fatelo tutti. L'altra notizia invece riguarda chi purtroppo non ce l'ha fatta, un virus ha colpito e ucciso un frate di 73 anni, Maurizio Pierelli, Sacrestano San Giovanni, a Pesero tutta la comunità era stata contagiata, lui non ce l'ha fatta. Le altre notizie, qui sempre dalla prima del Carlino, lo sport con la VL, basket che vola il quinto posto, vittoria sudata contro Trieste, mercoledì assalto alla Virtus. E poi, sempre rimanendo in tema di Covid, in tema sanitario, l'assessore regionale Saltamartini dice entro settembre il siero, quindi il vaccino, a metà dei marchigiani. Positivo l'infermiere che era in prima linea, adesso dice ho paura, e poi da oggi via ai tre giorni in zona arancione, riaprono i negozi. Minatore ha dieci anni, la storia riscoperta attraverso dei documenti trovati in una vecchia cassa, siamo a Durbino, e poi picchiava la convivente preso in Puglia da Cagli, la fuga al sud dopo la denuncia, la donna della donna, ma i carabinieri l'hanno scovato. Andiamo a vedere la prima pagina invece di Ancona, nel nome di Carlo Urbani, questa è la fotonotizia, il primo vaccinato e la dedica al medico ucciso dalla SARS, poi respiro arancione, linfa ai negozi, da oggi fino al 30 si riapre, ma non bar e ristoranti. Polacco della Confcommercio dice niente sorprese dopo il 6 gennaio. Mentre in regione è contagiata la consigliera Bora, blindato il palazzo, seduta a porte chiuse, tampone ai dipendenti. Andiamo a vedere il Corriere Adriatico, edizione di Pesaro, vaccino ora, fatelo tutti, è un virgolettato, una dottoressa e un'infermiera del pronto soccorso di Pesaro, le prime volontarie, Berselli di Marche Nord, abbiamo il 99% di adesioni, in dieci giorni compriamo appunto Marche Nord. Trieste sconfitta 84 a 74, la VL non si ferma, dunque continua la corsa positiva. Confindustria invece l'ultima farsa e i quattro gatti dell'asilo all'asilo. Vedremo tra poco la notizia che riguarda appunto le dimissioni di Papalini. Addio a Boiani invece, una vocazione per il turismo. da Pesaro, San Giovanni, piange il frate degli ultimi, poi Bracconaggio e Tartarughe, coppia, finisce nei guai. E allora adesso le regole, le regole di queste tre giornate che ci attendono. Oggi, poi il 29 e il 30 di dicembre, l'Italia diventa di nuovo zona arancione, riapre i negozi, il titolo del Carlino, da oggi tre giorni in zona arancione, ristoranti e bar chiusi, ma possono fare l'asporto, nel proprio comune si esce senza autocertificazione. Allora, velocemente, andiamo a vedere che cosa è possibile fare quando si è in zona arancione. Ricordiamo che è possibile spostarsi liberamente all'interno del proprio comune, senza avere l'autocertificazione. Ci si può recare in un comune differente a quello di residenza, se si vive in un centro con meno di 5 mila abitanti e dentro un'area di 30 chilometri. Non si va invece da un comune ad un capoluogo di provincia, salvo deroga. I negozi dunque riapriranno oggi, soprattutto quelli all'interno dei centri commerciali, ma resteranno chiusi o perlomeno, attenzione, non diciamo cose inesatte. I bar sono aperti, ma possono fare soltanto l'asporto. Quindi se voi volete fare colazione, andate al bar, prendete la brioche, come al solito, o vi fate fare un cappuccino, poi andate in macchina e ve lo mangiate in macchina. Insomma, questa è un po' in sostanza la questione. Oppure chi può torno a casa e se ne fa colazione a casa. Però per il resto i ristoranti sono chiusi, ovviamente, e quindi niente da fare. Questo per quanto riguarda il delivery, cioè l'asporto, che sarà sempre consentito dalle 5 del mattino fino alle 10 di sera. Dalle 10 in poi torna di nuovo il coprifuoco fino al giorno dopo. Quindi, insomma, questo è ormai ben assodato. Tutto questo fino al 30 di dicembre. Poi il 31 torneremo zona rossa. Ecco i primi sanitari vaccinati, orgogliosi, un grande giorno, ma in 20 dicono no, il primario Cicoli, gente che va cacciata. La prima che ha ricevuto il siero è stata la dottoressa Margherita Lambertini, poi anche la direttrice generale Maria Capalbo. Queste sono le fotografie scattate dagli stessi medici, infermieri all'interno dell'ospedale. Foto cosiddette di fortuna scattate dal personale ospedaliero, dove si vede innanzitutto qui la prima, come dire, la fialetta, il vaccino, la fiala di vaccino anti-Covid-19. Poi sotto il dottor Claudio Cicoli, che con la siringa al braccio, che mostra appunto il braccio destro nel momento in cui viene iniettato il vaccino. E poi la prima dottoressa, Margherita Lambertini, la vediamo qua, che è stata la prima a vaccinarsi. E poi sotto invece Giuseppe Visani, un altro braccio, un'altra camicia tirata su con il vaccino iniettato. Allora, andiamo a vedere un attimo le dichiarazioni, soprattutto quelle forti, come quella di Claudio Cicoli appunto, riferendosi ai 20 più o meno operatori sanitari che in coscienza hanno detto no, noi al momento non ci vacciniamo, preferiamo non vaccinarci. Il direttore sanitario Edoardo Berselli ha detto purtroppo abbiamo 20 dipendenti che non si vaccineranno, non possiamo prendere alcun provvedimento disciplinare nei loro confronti, ci auguriamo che rivedano la loro decisione. Noi contiamo di vaccinare comunque in 10 giorni tutti i 2.200 dipendenti di Marche Nord. Poi ci sarà il primo richiamo e forse a settembre un secondo. La dottoressa Lambertini dice alla notizia di queste 20 persone che non si vaccineranno siamo in uno stato libero ma un medico deve essere responsabile e avere cultura. Mentre Cicoli ci va giù un po' più pesante, dice vanno messi alla porta, mi dispiace ma di fronte ai milioni di morti nel mondo e oltre 71 mila decessi in Italia, tra cui centinaia di medici, lasciare che la gente così indossi un camice, un camice bianco in una corsia è inconcepibile. Dal Vax Day al vero obiettivo in nove mesi 700 mila dosi, quindi questa è un po' la roadmap, la mappa che si è data alla regione con l'assessore Saltamartini che dice che entro settembre del prossimo anno circa la metà dei marchigiani dovrebbe essere vaccinata. Somministrati intanto i primi vaccini ad Ancona, il medico Pansoni dell'INERCA dice, lo dedico a Carlo Urbani, adesioni tra il 40 e il 70% nella sanità, quindi come vedete non solo qui a Marche Nord ma anche un po' in tutta la regione, insomma tra il personale della regione non tutti si vaccineranno. A gennaio altri 38 mila test per il personale medico-sanitario, il programma prevede a marzo la distribuzione alla popolazione over 60, quindi come avete visto al netto delle polemiche che si sono scatenate con la fotografia del governatore della campagna De Luca che si è fatto vaccinare prima di tutti gli altri, insomma e su questo si continuerà sicuramente a far polemica anche nei prossimi giorni. Al netto di questo però abbiamo detto già in precedenza che i primi saranno gli operatori sanientari, quelli che sono in prima linea, poi in questo caso a marzo abbiamo sentito tutte le persone che hanno più di 60 anni nella nostra regione dovrebbero appunto poter ricevere il vaccino, poi ripetiamo il vaccino non è obbligatorio e quindi bisognerà chiedere di essere vaccinati. Intanto a Marche Nord titola il Corriere Adriatico pubblicando altre fotografie il 99% degli operatori sanitari si vaccinerà, è pronta la macchina da guerra, scrive il giornale, il direttore sanitario Berselli ieri volontario con altre 19, in 10 giorni possiamo coprire tutta l'azienda, le prime sono state la dottoressa Lambertini e l'infermiera Burzacchi, entrambe del pronto soccorso. Da oggi finalmente anticipiamo il virus, non lo rincorriamo più. E queste sono le dichiarazioni che troverete sui quotidiani di questa mattina. Intanto tornando sul Carlino, Carlino di Pesero, Salta Martini fissa le prossime tappe, titolo entro settembre la metà dei marchigiani. L'assessore annuncia da gennaio 38 mila dosi per tutto il personale sanitario, poi man mano 700 mila entro la fine della prossima estate. Ed è un momento storico, ha detto l'assessore alla sanità Salta Martini. Un momento storico perché cominciamo a vedere la fine di un percorso importante. Ora ne inizia uno nuovo che si svilupperà da gennaio con 38 mila dosi di vaccini per tutto il personale sanitario e poi ne arriveranno 700 mila entro settembre per proteggere circa la metà della popolazione marchigiana. Poi altre domande. E sulla questione dei lavoratori che si rifiutano di vaccinarsi, che rifiutano di vaccinarsi, cosa pensate di fare? La domanda, la risposta dell'assessore, e vivendo in democrazia esiste anche il dissenso. Certo, si potrebbero innescare strane dinamiche sotto il profilo della sicurezza nei luoghi di lavoro, dovremo studiare qualcosa di molto specifico. Poi parla dello screening di massa per il tracciamento dei positivi asintomatici e lui risponde che sta andando bene anche se sta procedendo la prima fase e quindi poi dal 7 gennaio avvieremo la seconda che prevede appunto la possibilità di fare i tamponi anche nei comuni più piccoli. E poi ci sono anche, lo ricordiamo, anche il Comune di Fano che dovrà attivare, pur avendo più di 20 mila abitanti, attivare questa seconda, questo tampone di massa, questi tamponi di massa. Allora, i positivi intanto, questo è il report sempre dal Corriere di Attico di oggi, i positivi alla soglia dei 40 mila, nuovo aumento di pazienti nei reparti di malattie infettive dopo il balzello a Santo Stefano, un altro giorno con il segno più nei reparti. E qui c'è la situazione delle ultime 24 ore che troverete sulla pagina del Corriere Adriatico. Purtroppo nella comunità di San Giovanni a Pesaro deve dare l'addio a Fra Maurizio Pierelli, 73 anni, sacrestano del convento di San Giovanni. Padre Aldo lo definisce un padre buono, lo ricorda come un padre, un uomo buono, grazie a tutti per la solidarietà, ora ricoverato solo fra Lorenzo. Tra l'altro, appunto, Fra Maurizio Pierelli, 73 anni, sacrestano del convento di San Giovanni, era originario di Fano, morto sabato sera a causa del Covid in ospedale dove era ricoverato da settimane dopo che l'intera comunità dei frati era stata colpita dal virus. Fra Maurizio era stato accolto dai frati di San Giovanni da ragazzo a 16 anni, poiché era rimasto orfano ed era senza una famiglia. Ne abbiamo già parlato di questo convento che, insomma, ha qualche difficoltà. Resta ricoverato intanto a Fossombrone padre Lorenzo Bufarini di 68 anni che però sta facendo riabilitazione dopo essere stato anche in reanimazione a Pesaro ed era proprio padre Lorenzo che si occupava di padre Maurizio. Intanto, dicevo, ci si può in qualche modo ad operare, volendo, aiutando questa comunità di frati. Qui c'è un conto IBAN che, se volete, ecco, vi allargo e se avete sotto mano il cellulare potete fotografare il televisore e utilizzarlo, questo IBAN, per aiutare questa comunità di frati. Intanto, vi ricordo che i funerali di Fra Maurizio saranno celebrati nella chiesa conventuale di San Giovanni appunto in Via Passeri, mercoledì alle ore 10.30. Intanto, l'infermiere contagiato dice sì, ora ho paura, siamo a Cagli. La storia di Daniele Conti molto noto anche nel mondo del calcio dilettantistico sopra, lo vedete, in versione anti-Covid invece sotto nella versione, diciamo, da malato. Lui dice ho la febbre, tosse, tanta paura sono chiuso in casa dal 23 dicembre purtroppo ho contagiato anche la mia famiglia moglie e una figlia le altre due una sta bene e l'altra ha un po' di raffreddore. E adesso, chiusa la pagina del Covid andiamo a vedere andiamo a vedere invece la questione Confindustria Marche due mesi sull'ottovolante nel senso che due mesi davvero difficili per questa associazione Papalini dimissionato Confindustria Caos, un sistema in fiamme questo è il titolo del Corriere Adriatico di oggi Roma mette alla porta il nuovo presidente di Marche Nord quindi Papalini su assist di Ancona le ipotesi unificazione accompagnata oppure guida al vicario per nuove elezioni dunque ci mancavano le dimissioni lampo del nuovo presidente di Confindustria Marche Nord Papalini è l'ideale conclusione della disastrosa fine anno nella quale il sistema associativo marchigiano più prestigioso redotto a 1500 aziende in tutta la regione ha visto dimettersi volontariamente oppure accompagnato da Roma tre presidenti su cinque territoriali in ordine di tempo Fermo, Macerata e Pesaro da statuto adesso la palla va a Bocchini entro 30 giorni si riparte per il voto Sabatini dice non conosco le dinamiche non unirsi oggi però è penalizzante Fratelli d'Italia c'è il commissario Emanuele Prisco guida il partito provinciale oltre quello regionale dopo le dimissioni di Antonio Baldelli da qualche settimana Fratelli d'Italia è un partito commissariato a livello provinciale a guidarlo non c'è più infatti Antonio Baldelli che si è dimesso ma il deputato Umbro Emanuele Prisco che è da tempo commissario regionale del partito da un po' meno tempo appunto anche commissario provinciale sotto invece Biancani replica da Guzzi per le scogliere sono stati stanziati 430 mila euro parliamo delle scogliere delle spiagge di Pesaro e ancora da Fano il Corriere Adriatico noi non siamo degli appestati le paure di una fanese che vive a Londra Michela Vagnini racconta la pandemia sull'isola anche chi è negativo non può tornare Michela Vagnini è la figlia di Tonisia e Mario Vagnini quest'ultimo presidente dell'associazione Rosciano Insieme da tempo vive a Londra con il marito e il figlio di 5 anni il dilagare di questa pandemia e l'inaspirsi del contagio ha sorpreso lei e la sua famiglia come tutti gli italiani che vivono e lavorano in Inghilterra questa è la fotografia di Michela Vagnini con il marito e il figlio poi sotto invece tradito dal controllo anti-covid sempre da Fano arrestato per spaccio anzi Colli al Metauro finisce nella rete dei controlli anti-covid e poi viene arrestato per spaccio di droga è un'operazione dell'altro giorno dei carabinieri della stazione di Colli al Metauro impegnati nei servizi di monitoraggio disposti per il contenimento della pandemia mentre dal Carlino sempre di Fano tensione tra i clienti del centro commerciale San Lazzaro per la presenza di senza tetto che chiedono i soldi chiedono un obolo senza mascherina davanti al supermarket una realtà lasciata a se stessa questo è l'articolo poi sotto i carabinieri fermano un 53enne spacciava droga è già stato processato lo vediamo anche qui sul Carlino Notizia che abbiamo visto poco fa sul Corriere bando nazionale invece per il servizio civile Africa chiama mette in palio sei posti quattro progetti riguardano la sede fanese altri due l'usaca in Zambia domande entro l'8 di febbraio mentre a Piagge si fa il presepe nella scalinata della torre il messaggio è stimolante quindi lo vedete in questa fotografia i momenti difficili servono soprattutto per rinascere nel giorno del sì invece alla Costituzione Liliana Segre è una fermignanese il Consiglio Comunale all'unanimità il 22 dicembre le ha conferito la cittadinanza onoraria per lei la pergamena e la medaglia del Caradosso che rappresenta Donato Bramante sotto da Urbino strada allagata botte risposta tra il gruppo Londei il sindaco acqua e disagi continui nella zona circostante Gambini dice siamo già intervenuti picchiava la convivente è stato arrestato i carabinieri di Caglia avevano raccolto la denuncia della donna lui è fuggito ma poi lo hanno scovato in Puglia il 33enne pensava di aver trovato un rifugio sicuro ma ai militari ai militari non è sfuggito sotto il professor Bovi lascia l'insegnamento dopo 50 anni il docente di Urbino docente universitario è un fondamentale punto di riferimento per generazioni di studiosi del nuoto un bracconiere e sua moglie cadono nella rete lui tentava di catturare uccelli pregiati con strumenti illegali la donna invece lei deteneva tartarughe protette tutti e due sono stati denunciati e demultati dalla forestale tutti e due risiedono a Vallefoglia li hanno sorpresi i carabinieri forestali di Pesaro durante un controllo e la successiva perquisizione nella casa dove abitano lui che è il bracconiere sta varmeggiando alle proprie reti a tramaglio attivate per la cattura di avifauna pregiata come il tordo bottaccio e il tordo sassello ma anche di altre specie come lo storno e il merlo per l'uomo un minimo di 774 euro di multa per la donna da 15.000 pensate fino a 150.000 euro di multa andiamo sulla cronaca della Valcesano sulla pagina della Valcesano del Corriere Adriatico siamo a San Lorenzo in campo con l'anno nuovo ripartono i cantieri piano di interventi da oltre un milione di euro dell'Onti il sindaco conferma l'attenzione alla viabilità e pensa di rafforzare anche la mobilità sostenibile a Fossombrone invece cari tessi comuni insieme per la solidarietà alimentare e sotto messa per Don Aldemiro nel giorno del suo compleanno Don Aldemiro Giuliani lo ricordiamo morto il 31 ottobre scorso avrebbe compiuto 87 anni se il Covid non l'avesse strappato alla sua comunità da Senigallia invece un certificato per le neomamme parcheggio gratis sulle strisce blu la proposta di Daross Fratelli d'Italia domani in consiglio seduta a fiuma il voto il programma del governo Olivetti Arcevia via i vaccini la più alta adesione presente il sindaco Perticaroli e il direttore Marini poi sotto ciao Claudio sei stato imprenditore di valore sempre da Senigallia colleghi associazionismo ricordano al Bonetti domani mattina i funerali intanto la pagina di sport per chiudere la nostra rassegna stampa VL che cuore batte Trieste e vede la Coppa la Carpegna Prosciutto va forte anche senza Massenat Pesaresi quasi sempre avanti contro un Allianz Maidoma Carpegna Prosciutto che vince dunque 84 a 74 in casa contro Allianz Trieste Tambone in quintetto al posto dell'ala per Zanotti 21 punti sono il massimo in serie A noi ci fermiamo qui la rassegna stampa torna domani mattina alle 7 e questa sera alle 20 e 30 invece vi aspettiamo per l'edizione del telegiornale Occhio alla Notizia grazie per averci seguito buona giornata a tutti Grazie a tutti